Muratore, venga qui un momento. Dice a me. Cosa che dico, me stesso? Non c'ho la faccia a muratore io. Muratore con quella paga. Non te ne pago qua, mi danno anche a muratore. Venga qui. Avanti tu, su, coraggio. Fermati, girati, girati. Senta, mi dica una cosa lei che è muratore. Dove la metterebbe lei il camminetto? Prego, di che la sua? Eh, non so, dipende anche... Quanti sono in casa? Eh, beh, anche 30, 40, dipende dai parti. 40 parti? Che cos'è, una clinica? Dai, non farei pirla, digli dove lo metteresti. Vabbè, adesso faccia conto che c'è il camminetto, si appoggi col gomito. Si appoggi pure col gomito. Ecco. Adesso mi faccia conto di prendere un cocktail in mano. Mi prenda in mano un cocktail. Ma, ma che cosa fa? Un bicchiere. Un aperitivo, un cintrano. Bianco o rosso? Rosso mai. Bianco. Deda? Viva. Grazie. Cin cin. Ecco. Ecco, fermo così, non si muova. Leonardo, Leonardo, guarda. Guarda come si staglia bene contro l'infinito. Cristina, sai che forse hai ragione? Oddio, bisogna immaginarsi uno meno volgare, meno brutto. Però si staglia. Si staglia, sì. Senta, architetto. Guarda, io butterei giù quella parete. Quale? Quella. Si può fare senz'altro. Architetto ha pensato i sempreverdi per la piscina? Già pensato. Me li faccio venire dalla foresta nera, che sono sempre poi i migliori. Naturale, signor Conte. Basilio, tu che fai lì? Ti ha preso la paralisi. Che fai lì? Ti ha preso la paralisi. Sto bevendo un vermo, no? Me l'ha offerto la signora. Osti, mi gira la testa. E poi cosa fai? Mi prendi per il culo. Sto bevendo. Quando uno fa così, che fa così, cosa fa? Beve, no? Chiaro? Che te sei fatto mettere sotto dai ricchi? Ma che mettere sotto? E' stata la signora che mi ha detto bevi, bevi. E io ho bevuto, no? Cosa dovevo? Ricliutare, prendere la caccia nel culo a fare discussioni? Non voglio sentire discussioni in questo cantiere! Altrimenti vi giuro che succede qualcosa di pesante, va bene?